È arrivata la conferma e dico la verità, onestamente ero anche un pochettino in ansia per questa cosa perché l'idea di aver vinto una partita senza non aver rubato mi faceva rimanere un pochino così col fiato sospeso ma per fortuna è arrivato il Paolone Ziliani nazionale a tranquillizzarmi perché intanto abbiamo la certezza che non era calcio d'angolo in occasione del gol che ha portato allo 0-1 di Adrian Rabiot Abbiamo la certezza? Assolutamente no, ma se lo dice il Paolone è un qualcosa di certo e in più la Juventus è stata graziata anche in un'altra circostanza perché al 46esimo l'arbitro ha deciso di graziare Bremer perché addirittura ha preso una testata da Pablo Marì cosa che evidentemente dal punto di vista di Ziliani era meritevole di secondo cartellino giallo e mi viene da pensare anche a questo punto calcio di rigore per il Monza quindi siano tranquilli, abbiamo rubato anche contro il Monza e tutto sommato va bene così